E' stata una rosa tatuata sulla mano a tradirlo. Così un 25enne campano, presunto autore di una truffa ai danni di un'anziana di Chietiscalo, è stato individuato, arrestato e posto ai domiciliari dagli agenti della squadra mobile di Chieti. La polizia ha anche notificato al giovane il foglio di via obbligatorio per tre anni dal territorio comunale. Secondo gli inquirenti, l'indagato sarebbe riuscito a farsi consegnare da una 85enne teatina 4.000 euro fra contanti e gioielli spacciandosi per suo nipote. Il modus operandi era quello di effettuare una telefonata alla vittima lasciandole intendere di essere il nipote e lasciando che la donna dicesse lei il nome del nipote per rappresentarle la necessità di una somma di denaro per una spesa urgente da effettuare e riferendo di incaricare una persona per il ritiro di questo denaro. Una volta capito il consenso della persona anziana, anche molto allarmata da questa circostanza, si è recata a casa della persona dove ha prelevato il denaro, perlomeno quello che la persona è riuscita a racimolare e che evidentemente aveva a casa. A quel punto ha avanzato ulteriore richiesta della consegna anche di gioielli e in questa circostanza la vittima ha consegnato i gioielli che aveva in casa tra cui anche la fede nuziale. Partendo chiaramente dalla descrizione molto particolare di questo soggetto che in un primo momento era stato descritto come una persona di sesso femminile perché ne aveva l'aspetto e anche soprattutto gli abiti e un particolare quello di un tatuaggio di una rosa sopra il dorso della mano. Quale questore della provincia di Chieti atteso anche il verificarsi di una serie di episodi simili a quello per il quale oggi abbiamo arrestato l'autore di una odiosissima truffa in danno di persona anziana è quella di non cadere in facili trabocchetti con telefonate dove appunto vengono segnalati delle necessità, un incidente, necessità di economiche, di avere soldi per fare fronte a spese improvvise. Quindi l'appello è di tenere alta l'attenzione e di contattare sempre al 112 al 113 le forze di polizia in modo da garantire con il nostro intervento l'evitare del verificarsi di questi episodi odiosissimi in danno di persone anziane.